Definire un quadro giuridico in cui andare a inserire il lavoratore sportivo e qualificare la prestazione del lavoratore sportivo ci ha portato a dire che è una collaborazione coordinata e continuativa. Perché? Perché in questo ci sono tutte quelle che sono ovviamente le garanzie in termini di autonomia della prestazione ma anche poi conseguentemente invece le tutele che sono legate alla continuità di una collaborazione che si dispiega nel corso del tempo. Con riferimento ovviamente a coloro i quali percepiscono un compenso da collaborazione superiore ai 5.000 euro però nel configurare l'istituto della collaborazione coordinata e continuativa è previsto il pagamento della contribuzione previdenziale. Quindi sono lavoratori sportivi a tutti gli effetti, ne hanno anche un vantaggio per quel che riguarda la contribuzione che poi darà luogo a una prestazione previdenziale di tipo pensionistico. Quindi saranno assicurati presso la gestione separata dei lavoratori autonomi. Ma io credo che oltre a questo sia da sottolineare anche l'approccio con cui noi caliamo tutta la normativa in materia di tenuta del libro unico del lavoro in questo nel contesto del lavoro sportivo. Guardiamo anche al tema delle comunicazioni obbligatorie telematiche introducendo un ulteriore elemento di semplificazione. Per la generalità dei lavoratori dipendenti e per la generalità dei datori di lavoro le aziende all'atto dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro devono fare una comunicazione obbligatoria telematica entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio del rapporto. Qui invece, proprio in chiave di semplificazione, prevediamo una comunicazione entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di instaurazione del rapporto di collaborazione. C'è quindi una tempistica più ampia.